musica 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 che stai? ok ma che cazzo di schincio che vuol dire schincio? capo premi f5 non mi di che ci hanno giocato junkie dimmi capo premi f5 di nuovo junkie no junkie ti prego junkie dimmi che me l'hai messa te junkie ti prego dimmi che me l'hai messa te ti prego junkie sei spawnato così no junkie ti prego me l'hai messa te vero capo questo account tu hanno cani e porci ma che cazzo junkie ti prego dimmi che me l'hai messa te junkie non te l'ho messa io mi sa che cazzo ci ha giocato questo account porco dio frate cioè ma veramente so usi man su minecraft crafta la mascherina ma ciucciami il cazzo ciucciami ok io mi ricordo come si fa così crafto con la rondellina cambio le armi che non c'ho allora capo bisogna iniziare dalle basi no ma io ce l'ho le basi del gioco eh quali sono le basi del gioco allora le basi del gioco sono semplici uno c'ha la sua casetta dove può craftare la roba e la crafta tramite gli strumenti che farma con la manina poi ci stanno gli archi e le frecce ma questo cosa è? quello cosa è il fogliame ah capo bisogna iniziare dal legno quindi devi abbattere quest'albero sfonda l'albero easy ma perchè mi dice le cose? io 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 so fa su 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 devi sfondare c'è so usi man che spacca gli alberi ok ok hai ottenuto dell'importantissimo legno ok ora tu cosa fai? tu premi E e ti apre un menu io io che ha fatto sta cosa gli deve prendere un infarto gli si deve fermare il cuore porco dio cioè ci ho giocato a minecraft nella vita mia eh facciamo una cosa hanno inventato una cosa hanno inventato una cosa per i paleolitici ok il libretto esatto con il libretto vedi tutte le cose che puoi fare in quel momento vedi i sticks sono un bastone lo sticks li fai semplicemente con due quadratini eh ecco si se tu clicchi è già pronto a posto ah proprio così poi mi faccio una spada alla faccia tua oh ma così è tutta un'altra storia spada e piccone che ci piangono chi è? come sono morto? ho perso tutto dal creeper siamo morti ho perso tutto vieni qui giù porca troia cos'è che mi ha ucciso? un creeper cos'è? che so i mostri vabbè ho rilecuperato la roba mia aspetta un attimo ci penso io gianchi ma no 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 ma sei cornuto? no ma allora porco dio che tenevo? guarda che io sono simen beh scappa bravo cornutazzo no calma calma gianchi gianchi ma non vinci sono simen gianchi gianchi c'ho il potere del napoli addosso c'è muori un'altra volta gianchi c'è giochi tutto il giorno a sto gioco e ci prendi pure il pisello e mo mi devo riprendere la roba dove è andata la roba mia? eh ce l'ho tutta io sono io simen pensi a tappicchiarmi si ma sono simen e il tuo sciarpame come sciarpame? cioè stai di che sta roba che c'ho io è tipo la merda e mo che fai? e mo andiamo in una miniera ok si ma io devo rimanere u simen tutto il tempo? che po che cosa ci vuoi fare? la vita allora per sopravvive io direi che ci serve una torcia e un po' di cibo esatto quindi vedi quei pesci? guarda vedi lì nel mare ci sono i pesci? si valli a prendere quelli sul cibo gianchi 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 come ritorno su? gianchi gianchi come ritorno su? gianchi gianchi che poco barra spaziatrice premuta ma sei un ciola allora prendi due pesci vado 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 si ma non mi raccogli niente gianchi eh ma non l'hai presi ma come non l'ho presi? si che l'ho presi ma sono in cima qui vedi le hai uccisi questo vedi che è un pesce da raccogliere guarda lì ce n'è un altro ah vengono su in cima si ok porco dio che cazzo è? porca troia ma c'è chi porco dio mi ha levato metà vita è il mosso del mare ma che cazzo è quella merda? e gli hai ammazzato i pesci dobbiamo trovare una miniera e ammazza quella pecore e sei finito perchè? c'è veramente te sei fatto il co il il server sardo? ma scusa ma ci stanno le donne qua? c'è la chat vocale? no non c'è la chat vocale c'è se io voglio parlare con te dentro il gioco? e non puoi siccome non abbiamo trovato una miniera ce la creiamo noi che con cosa che serve il piccone? inizia a scavare verso il basso da po scava però sto facendo un po di pesce io c'è chi ma che cazzo scavo? come prendi per culo porco dio? sta arrivando la notte io metto a cuocere un po di pesce guarda vai a scavare ma si se aspetti un attimo si rompe non è che si rompe istantaneamente mi sto a creare la miniera regà non vi preoccupate junkie junkie è spawnato un mostro e ho sentito non posso scavare scava ma perchè hai scavato così basso? ma come ci arrivo io? ascolta ci penso io scava giù cerca una miniera come è che si mettevano i cosi? i cosa? oddio ancora mi ricordo eh junkie c'è un problema ma che cazzo è successo capo? c'è l'acqua buca buca qua è una miniera marina ma scusa una cosa oddio i diamanti e questa è roba seria eh junkie allora capo famo un piccone di pietra dobbiamo andare a step capito? bisogna potenziarsi capo non hai preso il piccone è andato sotto nell'acqua non ce credo ma perchè non me l'hai passato? ma come lo faccio? con la pietra ok si con la pietra lo faccio io lo faccio io non te preoccupare oddio guarda la miniera marina è qui eh aspetta me lo faccio io però la miniera marina è troppo pericolosa per far andare a te c'è no non te preoccupare ma poi no capo te c'è schiatti cento cento no per chi mi hai preso porco le pendilettante vieni capo balla tu cuerpo la mimma carena che se caccia le macchie da mimma carena caviamo ancora più giù caviamo più giù ma perchè è buio un'altra volta? caviamo più giù ma è buio un'altra volta orco di capo ma aspetta e tu sei veramente riuscito a cadere in un pezzo di lava così arrivo arrivo fratelli arrivo 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 ma è buio un'altra tecnica no 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 ma c'è ma vera perchè me merito questo io non me lo merito gianchi capo nuota fino a qui eh buongiorno gianchi vorrei evitammela melusa se possi- ecco mi ha puntato PORCO DIO mi spieghi perchè sei andato in mezzo al mare questa è la risposta mia impossibile mori adesso si faccio un altro piccone comunque la prossima volta che entriamo qui si leva questo eh perchè questo porta a zella o osi man si ah c'è una medusa scusa c'era una medusa spiaggiata ho fatto un salto gigante ma sono morto arrivo arrivo eh gianchi ma dove cazzo sei ho cotto anche un altro po' di pesce ok come scendemo si vieni capo faccio io ok fai te ci pensi te vai tu segue tu scava nel tuo buco quale buco il mio questo noi siamo più sicuri no ma no un'altra caverna marina dovevo andare sulla caverna marina è destino no capo ci ritrovano che stiamo perpendicolari qua scaviamo verso di qui occhio che ci sono quelli delle caverne cazzo qua ci servono le armi però e cioè tiene una spada cazzo ma è quella di legno che sbocco è infatti quella di pietra ma prima c'avevo eh capo sta arrivando un creeper qual'è il creeper è lì quello lo vedi ma che sono quelli che hanno l'arco no è quello che scoppia ah e fatti il creeper io scappo ma fattelo tu ma che te sei in cula questo è il ferro è importantissimo eh lo so questo è il ferro prendi l'altro ferro allora il ferro va cotto ok c'è Hulk là in fondo e c'è uno con l'arco fratelli mi ricordo che c'è stavano quelli con l'arco te lo dico te sotto c'è un creeper e c'è pure una tarantola guarda oddio capo no capo sono finito che è successo e mi hanno sparato con la freccia mi stanno a sparare pure a me e all'arcere porco dio capo uccidilo te ne prego c'ho mezzo cuore ci penso io e mi ha ucciso capo non devi sfammare il colpo devi dargli un colpo alla volta quanto di dio no 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 capo dove sei dammi la mia spada ma metterla troppo ma dove vai perché vai nella zona pericolosa capo c'è un creepers dietro aspettami il mostro di minecraft dammi due pesci il creeper scappa scappa no è un arciere l'ho ucciso ti paro io ti paro io l'ho ucciso l'ho ucciso l'ho ucciso aiutami a combattere ma sei un infame di merda hai stirato e grazie al cazzo ma sei una sega clamorosa ma capo due creeper uno scheletro da solo junkie junkie io mi devo buildare le armi c'ho il creeper addosso eh no è mo' aspetti ok junkie cosa vuoi scappa che scappa di qua ritorniamo qui un attimo porca ma com'è fatta a fare quel salto che mi sembravi veramente quello che ha vinto l'olimpia di italiane com'è che si chiama toffi io dico porco di dio però questo ha fatto il kamikaze te lo dico dopo la stream capo dove cazzo sei andato me sto dai pesci fermati fermati te ne prego ok capo capo che cazzo fai mi sto proteggendo c'era uno scheletro porco sei morto te allora io mi proteggo capo ascolta il mio ascoltami metti la fornace in terra e metti a cuocere il ferro devi farti lava il potenziamento ok me sto protetto aspetta fammi proteggere fammi proteggere aspetta me sto proteggere un attimo se viene uno qua dentro non steremo per altri quattro mesi madonna mia son mostro porco dio su ogni gioco junkie che devo fa' eh mi hai fatto morire quattro volte capo capo eh ci sono due creeper fuori da dove sei tu ma li faccio scoppiare no non li fa scoppiare eh si no perchè aprimi come te apro qui dove c'è la cobblestone dove sei aspetta te sto aprire no junkie c'è una no non ti posso aprire capo apri ci sono solo io capo jackie sento i versi non ci sei solo te capo apri ti prego ok aspetta davanti a te apro ok dritto per dritto apri lì apri lì io non c'ho piccone no junkie c'è un mostro junkie no è pieno no junkie bisogna che vieni dall'altra parte capo guarda dove sono qui mi vedi il nome qui mi aspetti un secondo oh junkie un attimo ok vedo il tuo nome ti apro capo sto prendendo a mano junkie hanno spaccato tutto junkie mi stanno buttando le bombe kamikaze junkie ti apro capo aprimi junkie mi continuano a bombardare porco dio ci sono i creeper porco tappa tutto tappa no è entrato è entrato è entrato sono entrati tutti sono entrati tutti sono entrati tutti è entrato capo sono entrati tutti ho visto la stima e uno prendi la colpa e lo uccidi è uno solo nooo altri quattro mesi di nostri e gli contenini alle immagini e 겁 immagini day a non come McMah ma non